buona giornata eccoci pronti amici di fano tv per la nostra consueta rassegna stampa oggi è giovedì 22 dicembre 2022 è una giornata non molto fredda nuvolosa comunque siamo in pieno inverno ormai l'inverno è cominciato nella giornata di ieri e si prolungherà ormai per tre mesi finché non arriveranno i primi fiori dei mandorli nei pressi di marzo aprile ma noi ancora siamo lontani da quella data e allora cosa facciamo questa mattina leggiamo come sempre i giornali passando però per l'almanacco del giorno e vediamo che il santo del giorno è una santa molto molto nota agli emigranti in modo particolare agli emigranti italiani si tratta di santa francesca saverio cabrini nata nel 1850 a sant'angelo lodigiano ebbene fin da piccola ebbe una naturale propensione verso la fede cattolica a 11 anni pensate fece già il voto di castità si fece suora fondò l'istituto delle missionarie del sacro cuore andò poi in missione in diversi paesi soprattutto in america negli stati uniti in nicaragua in argentina dove assistette gli immigrati italiani quelli che partivano lasciando le loro spalle tutta una loro vita tutta una loro relazione partivano con poche cose quindi nei paesi dove arrivavano erano poveri ebbene santa francesca saverio cabrini li aiutò fondò molti ospedali fondò anche degli orfanotrofi e diede un futuro una speranza a coloro che lasciavano tutto alle loro spalle morì il 22 dicembre come appunto se fosse oggi del 1917 in america ed ora passiamo alle previsioni del tempo dove vediamo che in tutta la regione Marche si diffondono nubi basse e banchi di nebbia in sollevamento diurno schiarite in serata i venti saranno deboli al mattino da sud ovest al pomeriggio da est il mare è quasi calmo le temperature minime arriveranno a 6 gradi le massime a 11 gradi questo per quanto riguarda la le condizioni del tempo di oggi e allora apriamo i giornali e vediamo subito l'apertura del corriere adriatico minacce e sonniferi per la madre una notizia di cronaca molto inquietante un fanese di 36 anni ha patteggiato la pena di due anni 12 giorni di carcere per maltrattamenti in famiglia ad agosto aveva violato il divieto di avvicinamento subendo una prima condanna del tribunale e quello che descrive il giornale oggi a carico di questa persona è veramente inquietante dava sonniferi alla madre e poi minacce minacce terribili come ti apro il cervello e poi non seguo non non do altre notizie perché sono veramente molto molto violente comunque aveva minacciato la madre tanto che la poveretta si era rinchiusa nella propria stanza cercando appunto di sottrarsi alle ire del figlio che spesso era anche così in preda ai fumi dell'alcol impossibile per questo questo soggetto che poi si era dato anche dell'autolesionismo insomma aveva fatto veramente cose eclatanti e quindi ora è in caccia un'altra notizia non certo edificante è quella al lato si masturba davanti a una ragazza e paga una sanzione di 10 mila euro a teosceni davanti a una minorenne che vive a santosso è stato protagonista un uomo un fanese sulla quarantina che è stato individuato dal personale del commissariato di fano diretto dal vicequestore stefano seretti che ha già pagato e ha già pagato 10 mila euro di sanzione l'episodio è avvenuto durante una serata dello scorso fine settimana quindi è recentissimo tra le 22 e 30 e le 23 a santosso vediamo ora una notizia di politica colpo di mano in commissione ebbene sappiamo che a latere del consiglio comunale di fano operano le commissioni che in maniera preventiva esaminano le delibere che poi vengono portate all'approvazione del consiglio comunale il giorno dopo il giorno che segue ebbene da tempo un posto era vacante una presidenza era vacante perché cora fattori che ricopriva il ruolo di presidente della quarta commissione che si occupa di bilancio è stata nominata assessore e quindi aveva dovuto abbandonare sia il consiglio comunale che ovviamente la presidenza della commissione questo è avvenuto il 5 ottobre scorso da allora la maggioranza non aveva più indicato il nominativo per eleggere il presidente e quindi le operazioni della commissione erano state condotte dal vicepresidente Fontana Giovanni Fontana del movimento 5 stelle un rappresentante della minoranza e ieri che cosa è accaduto è accaduto che in commissione c'erano solo quattro componenti due del due della maggioranza che erano borioni che aveva sostituito la cora fattori come membro della commissione dei della lista civica insieme e meglio ed enrico scusate devo vedere un attimo qui nella cifra di sì enrico nicolelli del partito democratico a questo punto di là per quanto riguarda le minoranze c'erano lo stesso lo stesso Giovanni Fontana e l'esponente della Lega Luca Serfilippi due contro due hanno fatto una serie di votazioni alla fine è stato eletto in condizioni di parità il più anziano e quindi la presidenza è toccata Giovanni Fontana esponente della opposizione colpo di mano in commissione la maggioranza perde un ruolo per l'assenza di un suo componente tiriamo la pagina e vediamo come ieri si è presentata una bella e importante iniziativa sportiva 100 squadre per mille ragazzi con 2000 presenze negli hotel quindi sport ma anche turismo quindi incentivo all'economia e questo è un binomio molto importante i numeri della Volcap organizzata dalla Virtus dal 27 al 29 dicembre a Fano, Pesaro, Senigallia e Lucrezia si tratta del Fano International Volley Cup che dà la misura della consolidata dimensione di un torneo di fine anno che è molto molto partecipato si tratta di 100 squadre iscritte mille atlete ed atleti impegnati in 280 partite distribuite su 23 campi tra Fano, Pesaro, Senigallia e Lucrezia 2000 presenze alberghiere nella tre giorni dal 27 al 29 dicembre che coinvolgerà formazioni under 13, 14, 18 femminili e under 15 e 17 maschili provenienti da 10 regioni del centro e nord Italia. Quindi pensate quale sforzo organizzativo implica questa manifestazione veramente una importante a livello proprio del centro e nord Italia iniziativa che si svolge a Fano. Ma il terreno, l'obiettivo non tanto secondario di questa iniziativa è la destagionalizzazione del turismo ovvero portare le presenze turistiche al di fuori dell'alta stagione dei mesi di luglio e agosto quindi anche dicembre è importante. E diciamo che la Virtus è quella che sta meglio in questa posizione per centrare questo obiettivo, un ruolo che vorremmo avessere anche altri dice l'assessore al turismo Etienne Lucarelli. La Virtus comunque è già attiva per il torneo di Pasqua, pensate ha già pensato anche al torneo di Pasqua che conta come ogni anno di organizzare anche tra maggio e giugno qualche finale nazionale giovanile. A concorrere all'espansione di una manifestazione che comporta un lavoro enorme, dice il Presidente Cenerilli, anche le altre società pallavoristiche del territorio oltre al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio della Regione e alla FIPAV che crede fortemente in una manifestazione che continua a crescere adoperandosi al massimo per supportarla. E questa è una dichiarazione aggiunta anche dal Consigliere regionale Luca Serfilippi. E ieri c'era anche il Sindaco Massimo Seri e l'assessore allo Sport Barbara Brunori a presentare questa bella manifestazione. All'Ido pronta la vasca contro gli allegamenti, finalmente alleluia dobbiamo dire questa vasca è pronta, l'ha perseguita con grande impegno e determinazione l'assessore Barbara Brunori, l'assessore ai lavori pubblici Barbara Brunori che finalmente è riuscita a raggiungere il risultato. Ed ora questa vasca di contenimento che dovrebbe evitare gli allargamenti del sottopasso di Viale Carducci e anche di Piazzale Amendola aspetta il temporale per così verificare la sua funzionalità. Ma gli esperti, dato che il collaudo è stato effettuato, sono sicuri che tutto l'apparato, tutto l'impianto funzionerà e non ci saranno più allargamenti all'Ido, così almeno dicono. Quindi un buon risultato ottenuto dal Brunori. Vediamo anche a fondo pagina, Carnevale, un rilancio con 12 carri weekend di feste. Anche la Giunta ha approvato il progetto del prossimo Carnevale presentato dall'ente carnevalesca. Il Corriere Adriatico oggi annuncia qualche novità, per esempio che il Pupo avrà la raffigurazione di Samantha Cristoforetti. Ma non solo ci sarà questa figura delle missioni spaziali che caratterizzerà il prossimo Carnevale, ma ospite d'onore addirittura ci sarà l'astronauta Paolo Nespoli e con l'ASI, l'Agenzia Spaziale Italiana, ci sarà anche una collaborazione con il Carnevale di Fano per tante altre iniziative. Ebbene anche questa è una bella novità. Comunque sfileranno nelle giornate del 5, 12, 19 febbraio prossimo quattro carri nuovi, sei carri di seconda categoria, quello del Pupo oltre a mascherate e complessi, è il carro rinnovato della musica arabita che il prossimo anno, nel 2023, festeggia cento anni, cento anni di tradizione, di folclore, di musica, di vivacità di questo bel complesso fanese. Vediamo ora come anche il Sindaco si impegni a risolvere il problema che attanaglia un gruppo di famiglie che vivono in un condominio del Poderino. Erap, intervento del Sindaco, cerchiamo una soluzione. Sono alcune famiglie che pur pagando le bollette dell'acqua corrono il rischio di vedere chiuso l'interruttore. Perché? Perché altre famiglie del condominio non pagano. Seri ora tenta di evitare il distacco del gas per morosità, oggi in un condominio del Poderino. Si tratta di gas, si tratta quindi di riscaldamento. Il Sindaco Massimo Seri era al lavoro ieri per scongiurare l'ulteriore distacco del metano in un condominio delle case popolari del quartiere del Poderino. Un tentativo di intervento in zona Cesarini, anche se vanno avanti già ad alcune settimane i contatti tra il primo cittadino di Fano, l'ente regionale per l'abitazione pubblica e gli uffici di Prometeo, che è la società del gas che oggi stesso potrebbe di nuovo interrompere il servizio. Quindi si cerca di scongiurare questo problema. Vediamo qualche notizia che ci giunge da Cantiano, dove 400 milioni saranno dati a Comune, imprese e famiglie. Sono i soldi che il Governo ha stanziato per risollevare le popolazioni colpite dalla alluvione. Ci si è stato un vertice in Regione, a questo proposito, con il Sindaco convocato da Acquaroli per chiarire i principali filoni di intervento. I finanziamenti saranno destinati per i risarcimento, per gli interventi di somma urgenza eseguiti prima di tutto dai Comuni. Una parte poi andranno per i ristori delle famiglie e anche alle imprese, nonché ad alcuni primi interventi strutturali, mentre una somma sarà destinata per la progettazione degli interventi per mitigare in futuro il rischio idroideologico. Ed ora diamo un'occhiata anche alle notizie pesaresi, dove si parla di freddo nelle scuole, ma in realtà è una notizia che riguarda un po' tutte le scuole della provincia. Troppo freddo nelle classi, i genitori sono pronti alla protesta, i termosifoni accesi solo dalle 7.30 alle 11.30. Le aule che non fanno nemmeno in tempo a riscaldarsi destano preoccupazione, sia da parte degli studenti che soffrono il freddo, sia da parte dei genitori che non vogliono che i loro figli si ammalino. Il presidente Paolini, però il presidente della provincia, alza le mani. A Pesaro dice che gli impianti funzionano per meno ore rispetto a Fano ed è comunque l'osservazione di una normativa nazionale. Che cosa accade? Accade che c'è un problema da risolvere, perché poi chi si ammala con l'influenza che gira, il virus si trasmette. C'è un consiglio interessante che il giornale pubblica è emesso da Luigi Calbini, che è presidente della Confartigianato Impianti. Egli dice che non va bene accendere il riscaldamento dalle 7.30 perché fino alle 9 le aule non si riscaldano e oltretutto con lo spegnimento alle 11.30 le aule si raffreddano velocemente, considerando che nessuna delle strutture scolastiche pesaresi è dotata di coibentazione. Il riscaldamento, dice Calbini, andrebbe acceso alle 6.30 in modo che alle 8, quando arrivano gli studenti, le aule sono riscaldate. Per quanto riguarda lo spegnimento va programmato un'ora prima. Questo dovrebbe essere il consiglio di un esperto per cercare con i fondi a disposizione di ottenere il migliore risultato. E poi si parla sui giornali della stretta sull'uso dei telefonini, ma le scuole erano già pronte. I presidi puntano più sulla educazione che sul divieto, però ci sono dubbi sulla punizione dei trasgressori. se uno viene colto a telefonare in classe, che cosa accade? Viene sospeso, viene punito, si ritira il cellulare, c'è una multa, insomma la cosa è molto aleatoria. E parliamo ora del ex manicomio di Pesaro, questo grande complesso che è sito in fondo al corso di Pesaro. Un team di architetti e ingegneri si è incaricato di redigere il progetto per il recupero, ovviamente partecipando ad una gara d'asta. Si tratta di una porzione del grande complesso di 5.700 metri quadrati. Su corso 11 settembre, dove il Comune realizzerà delle abitazioni popolari, residenze, di social housing, uffici e laboratori di artigianato. Sarà redatto da un gruppo di professionisti denominato proprio raggruppamento temporaneo di professionisti. Quest'ultimo è costituito dallo studio Paci Beta Consorzio stabile di Pesaro, titolare del contratto. E poi ne fa parte anche la società cooperativa co-progetti di Gubbio, uno staff che proprio per l'accoppiata ha tutti i requisiti necessari per compiere questo progetto. Un progetto però che deve confrontarsi con tutta una serie di vincoli e condizioni richieste dai professionisti, quindi una cosa certo non facile. Ed ora vi presento la nuova signora di Palazzo Ducale. Chi è la nuova signora di Palazzo Ducale? Ovviamente siamo nelle pagine che riguardano Pesaro e Palazzo Ducale, quello che è in piazza del popolo a Pesaro, sede della prefettura. A sostituire il prefetto che è andato in pensione, si tratta di Tommaso Ricciardi, è stata nominata Emanuela Saveria Greco e qui è la sua fotografia, la sua immagine. Ecco il prefetto che arriva dalla Toscana, primo incarico per Emanuela Saveria Greco, alle spalle un curriculum di assoluto prestigio, è stata vice prefetto in diverse località italiane, ha un curriculum veramente di grande impegno, di grande lavoro, eseguito sempre nei moduli di intervento che riguardano il Ministero dell'Interno e quindi arriverà a Pesaro per così, per svolgere il suo lavoro al posto di Tommaso Ricciardi. Ed ora passiamo al Corriere, scusate, al resto del Carlino dove l'apertura è dedicata al supermercato di Centinarola. Il nuovo market divide Centinarola, borgo stravolto, ma è anche un servizio, c'è appunto chi è consenziente e c'è invece chi è dissente. Viaggio nel quartiere dove si vuole realizzare la maxistruttura di vendita, intanto la variante viene ritirata dal Consiglio, doveva essere così approvata oggi, nel Consiglio Comunale che è previsto alle ore 19.30, un Consiglio Comunale di fine anno, quindi ben provvisto di delibere un ordine del giorno veramente robusto, quello di oggi dove farà da protagonista il completamento dell'Interquartieri e vedremo se la Giunta riuscirà a farlo approvare, se la maggioranza lo approverà. E intanto dunque però questa variante di Centinarola che sta suscitando diverse polemiche viene ritirata, non viene ovviamente, scusate, viene rinviata. Non so se poi qui il termine ritirata è giusto, probabilmente verrà ripresentata nelle prossime sedute. Sarà il supermercato della discordia, questo in sintesi il pensiero dei cittadini della frazione di Centinarola, poco più di 2.000 abitanti, questo quartiere che è posto alle pendici di Montegiove, dove le associazioni di categoria hanno così protestato contro la realizzazione di questa nuova superficie di vendita, 2.500 metri quadrati. Stravolgerebbe l'aspetto del borgo, dice Nicole Battisti, barista di 24 anni, e non penso sia necessario. Per fare la spesa grossa andiamo tutti a Fanon Center oppure al supermercato Flaminio, ma qui non mancano diversi piccoli negozi che ci forniscono tutto quello di cui abbiamo bisogno. Ci sono comunque dichiarazioni che dicono che ci vuole un supermercato perché è più comodo fare la spesa vicino a casa e c'è invece chi non ce lo vuole perché poi supermercati creano problemi, parcheggi, concorrenza con i piccoli negozi e via, dicendo un problema, un braccio di ferro che si ripropone da diverso tempo a Fano. Marina dei Cesari, altro schiaffo, ricorso respinto. L'imprenditore Cazziò non si dà per vinto e valuta di appellarsi alla Cassazione contro il fallimento, ma il liquidatore è al lavoro, poi ci sarà l'asta. Il Tribunale di Ancona ha respinto la richiesta di Alberto Cazziò, titolare della concessione di Marina dei Cesari contro la dichiarazione del fallimento del porto turistico. Il Tribunale d'Orico ha praticamente certificato quanto aveva già stabilito il Tribunale di Pesaro. La società è fallita, ora la procedura dovrebbe camminare un po' più spedita, anche se l'imprenditore subito dopo la sentenza dei giudici ha detto, devo valutare, questa è la dichiarazione di Cazziò, devo valutare con i miei legali se ricorrere in Cassazione, perché a mio avviso le stime e i valori rendono la società non fallibile e ci sono sentenze in merito, comunque l'attività del porto va avanti. Questo ovviamente è importante per tutti i diportisti, per tutti coloro che hanno la barca e questa darsena che ha continuato la sua vita, però insomma dovrebbero intervenire altri proprietari. A questo punto vediamo anche qualche notizia di Pesaro del resto del Carlino. Abbiamo una bufera all'Accademia di Belle Arti dove la Guardia di Finanza ha scoperto otto assenteisti, non si tratta di insegnanti ma di altro personale. La Guardia di Finanza ha indagato un anno mettendo telecamere. Si ipotizza la truffa, abuso e frode informatica. Questi impiegati, questi dipendenti uscivano dal lavoro senza timbrare il cartellino. Vediamo le telecamere che erano poste proprio sopra l'apparecchio dove bisognava introdurre la tessera. Questi uscivano per le loro necessità, le loro incombenze e poi rientravano in lavoro ma ovviamente non rispettavano il loro contratto. Morto Mr. X, l'angelo custode degli ultimi. Noi continueremo ad aiutarli in suo nome. Per anni ha sostenuto la Gulliver rimanendo nell'anonimato. È un pesarese che aveva così dato un grosso sussidio a questa organizzazione. Ora la famiglia gli rende omaggio e prosegue la sua opera. Ecco chi era in memoria di mio marito, dice la famiglia, la moglie ovviamente, e si rivela il nome. Marco Pierini è morto un mese fa circa, spiega Andrea Boccanera, presidente della Gulliver. È sinceramente sulla sua donazione, un assegno considerevole da devolvere in beneficenza, non facevamo più affidamento. In realtà poi quest'opera continua. Cesti natalizi, medi in Cantiano, anche così si aiuta la rinascita. Avere un cesto pieno di alimenti per Natale fa sempre piacere e pensate che piacere provano coloro che si trovano in veramente stato di necessità perché il fango, la pioggia ha portato via loro tutto. E dalla Galleria d'Urbino ai Musei Civici mostra il capolavoro del Sasso Ferrato. La tela sarà posta accanto alla bellissima tela del Bellini. Colma lo spazio lasciato dal prestito di Pesaro alle scuderie del Quirinale. Ebbene, un capolavoro che dal Palazzo Ducale di Urbino arriva a Pesaro, incentiva ancora di più le visite ai musei di Palazzo Mosca, dove ci sono quadri di grande valore, tra cui appunto la Pala del Bellini, ed ora questa bellissima opera del Sasso Ferrato. Sono delle predelle che ricordano i dipinti di Raffaello e quindi sono di grande valore. Al datore di lavoro porta tutti al Seychelles. Benissimo, l'azienda Saltarelli Migiani di Coprazzino, dopo aver premiato gli 80 dipendenti con 2.000 euro a testa, paga anche la vacanza esotica. Cosa si può desiderare di più? E sono sempre più in questi giorni le ditte che danno delle gratifiche sostanziose, non si tratta di tredicesime, non si tratta delle gratifiche sostanziose ai loro dipendenti. Condividono così la fortuna eseguita, ottenuta dalla loro attività imprenditoriale e ne beneficiano un po' tutti. E con questa notizia noi chiudiamo la nostra rassegna stampa. Massimo Foghetti vi saluta, vi dà appuntamento domani alle ore 7 per le notizie del giorno alle ore 20 e 30 di questa sera con il Tg di Fano TV, Occhio alla Notizia. Grazie per l'ascolto, a risentirci.